Lo aveva anticipato nel giorno della presentazione della sua giunta e durante il primo consiglio comunale. Da ieri sera è ufficiale meno soldi nelle tasche di sindaco, assessori, consiglieri comunali e componenti delle varie commissioni al comune di Sarno. Lo ha ribadito il primo cittadino Canfora. La proposta sulla diminuzione dei gettoni di presenza avanzata dal presidente dell'Assise Maria Rosaria Aliberti e dei capi gruppo consigliare è passata all'unanimità. E' stato modificato l'articolo 63 del regolamento consigliare con l'aggiunta di un comma che prevede che non sarà corrisposto gettone di presenza nelle commissioni consigliari in alcuni casi, nello specifico quando la seduta andrà deserta o quando la partecipazione sarà inferiore ai 30 minuti. In caso di partecipazione nella stessa giornata a due diverse commissioni consigliare sarà riconosciuto un solo gettone di presenza. Il consiglio comunale ha anche approvato la modifica dell'articolo 60 che prevede che ogni commissione consigliare sia composta da 8 consiglieri comunali disponendo alla riduzione del 20% del numero. Durante la riunione del parlamentino cittadino si è preso anche atto della rimozione della causa di incompatibilità del consigliere comunale Raimondo Milone votando all'unanimità la convalide della sua elezione alla carica di consigliere comunale. Abbiamo apportato la modifica di due articoli al regolamento interno del consiglio comunale che prevede l'indennità ai componenti. Abbiamo dimezzato le indennità e qualcuno ha rinunciato definitivamente all'indennità per cui è una cosa molto bella. Poi abbiamo aggiunto che il gettone può essere percepito soltanto dopo 30 minuti. Se la commissione non basta, bisogna partecipare alla commissione. E poi un'altra cosa importante è che non si possono prendere doppi gettoni se si è in varie commissioni. Nella stessa giornata non ci si può sedere, a più tavoli ci si può sedere ma si percepisce soltanto un'unica indennità. Grazie a tutti.